Finanza sociale, questo è un termine che da pochissimo è entrato anche nel ordinamento giuridico italiano. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che la riforma organica del terzo settore, approvata il 2 agosto scorso 2017, ha per la prima volta introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'espressione finanza sociale, precisamente nel titolo V del codice del terzo settore. Perché è importante questa novità? Perché storicamente la finanza nasce come finanza sociale e la finanza nasce nel 1400, dove? In Italia ovviamente, perché tutte le cose importanti in ambito economico e sociale sono tutte, quasi tutte, mi correggo, nate in Italia e da opera del movimento francescano, i Monti di Pietà, il primo a Perugia, 1462 e poi da Perugia nel resto d'Italia. Ebbene, i Monti di Pietà sono le prime banche moderne che non hanno scopo, direi, speculativo e tantomeno lucrativo, ma di intermediare tra i risparmiatori e i prenditori di fondi, senza, ripeto, avere obiettivi di profitto. Le cose poi a partire dal 1600 sono andate diversamente e le banche sono diventate, in generale gli operatori finanziari, operatori che operano per il profitto. Ebbene, parlare oggi allora di consentire a soggetti della società civile che lo vogliono, perché nessuno è obbligato, di esercitare un'attività finanziaria, pur non avendo l'obiettivo del profitto, è una grande conquista di civiltà, che non vuol dire che le altre forme di finanza debbano essere demonizzate, tutt'altro, bisogna consentire la biodiversità, cosa che finora era stata impedita. Allora, tra gli strumenti nuovi di finanza sociale abbiamo i social bonds, cioè le obbligazioni sociali, i titoli di solidarietà e soprattutto il prestito sociale, il social lending.